L'attività investigativa ha permesso di collezionare evidenze utili a ricostruire le estorsioni e le rapine poste in essere dalla baby gang ai danni di un luna park del litorale ripostese. In questo è stata fondamentale la collaborazione delle vittime che denunciando hanno permesso di ricostruire compiutamente gli eventi. Il modus operandi dei giovani minori coinvolti era basato sulla violenza e sull'intimidazione, forti anche del legame di sangue di alcuni di questi con alcuni pregiudicati locali. Le indagini hanno permesso di raccogliere evidenze anche in relazione a un sequestro di persona operato da alcuni appartenenti alla baby gang con il supporto di altri criminali locali ai danni di un esercente ripostese.